Ormai la mobilità sostenibile non si può parlare di futuro ma sicuramente di presente. Passione automobilistica e attenzione alla sostenibilità ambientale sono gli ingredienti della Lago di Como Eco Green, manifestazione organizzata dall'Automobile Club Como sulle strade lariane sabato 17 e domenica 18 luglio per promuovere la cultura della mobilità green. Il messaggio che vogliamo dare è proprio quello, cioè di far conoscere e divulgare le energie alternative per muoversi. In questo caso auto elettriche ma non solo, le ibride, quelle a metano, GPL. Due giorni, due prove di campionati italiani di auto ecologiche, elettriche, ibride, metano, GPL e Bifuel. Si parte sabato alle 11.30 a Como dal Tempio Voltiano, base operativa dell'evento, sede anche di iniziative di promozione della mobilità sostenibile, con la prima tappa comasca del campionato italiano Green Challenge Cup composto da due prove di regolarità. Oltre 200 chilometri tra il lago di Como, il Ceresio, le valli lariane, la Brianza e l'Erbese. Alle 18.30 di sabato si torna al Tempio Voltiano di Como per la premiazione dei campioni ACI Sport 2020 e a seguire della Green Challenge Cup. Domenica poi le auto ecologiche andranno in Valle Intel di Aschignano per quattro prove della Green Hill Climb, gara di regolarità in salita. Alle 17 le premiazioni in piazza Aschignano. Il messaggio di questi eventi è un messaggio di sport, quindi di avvicinare le persone allo sport, ma di promozione turistica, perché come avete potuto vedere più di 40 comuni sono coinvolti nell'evento. Quindi promozione dello sport, promozione del territorio. Un premio speciale verrà poi dedicato alla memoria di Paolo Brenna, dirigente dell'ACI e anima del Radio di Como scomparso lo scorso anno. L'Ago di Como Eco Green è un evento organizzato nell'ambito delle celebrazioni dei 95 anni di ACI Como. Questo è il primo degli eventi per festeggiare questo anniversario che si concluderà il 26 novembre di quest'anno, 95 anni della Fondazione.